Ivano Famiglietti non ricorda nulla di quel massacro, di quei 27 colpi d'ascia inferta ai genitori Michele Famiglietti e Maria Corvino, sterminati il 24 novembre scorso in un'abitazione di Frigento. È stata depositata dopo due mesi di colloqui la perizia psichiatrica a carico del 25enne che ha fatto scempio della mamma e del padre perché sentiva la voce del diavolo. Il medico Giuseppe Sciaudone ritiene l'indagato parzialmente in grado di intendere e capace di sostenere un processo. Il giovane ha rimosso i momenti dell'orribile duplice delitto. Si trova dal giorno dell'arresto in cura dai medici specialisti. L'obiettivo è quello di fargli prendere piena consapevolezza di quello che è accaduto. Il duplice delitto si è consumato a Frigento il 12 novembre scorso. Ivano Famiglietti uccise il padre e la madre, un omicidio orribile e dalle tinte macabre. Per due giorni è rimasto accanto ai cadaveri orrendamente sfigurati ascoltando musica ad alto volume. I corpi delle vittime vennero trovati dalla sorella dell'imputato, una scena inutile sottolinearlo, straziante. La relazione dello psichiatra è stata presentata nell'udienza che si è celebrata davanti al GIP e alla quale hanno partecipato il difensore di Famiglietti, l'avvocato Testa e il pubblico ministero De Angelis. Subito dopo quel terribile omicidio si è innescata la discussione sulla difficile gestione delle persone affette da disturbi mentali. Le condizioni di Ivano erano note così come le sue stranezze gli eccessi d'ira. Quasi una tragedia annunciata che nessuno è riuscito a prevenire, anche evidentemente per l'assenza di una rete capace di sostenere e aiutare sia l'indagato che i suoi familiari.